Salve ragazzi, io sono Luigi e questo è il mio nuovo video di Star Wars Battlefront Quest'oggi ho deciso di fare la modalità invasione In questa modalità si ricrea praticamente la battaglia di Hutt Dove, pilotando un T-47 Speeder, anche chiamato Snow Speeder Bisogna distruggere tutti i camminatori imperiali Che arriveranno a susseguirsi le varie ondate dalla TST alla TAT Devo ammettere che all'inizio questo gioco per me è stato molto complicato Ma col passare del tempo sono diventato più bravo E adesso sono arrivato ad ottenere tutte le stelle Perciò iniziamo L'evacuazione in corso Il generatore d'energia va protetto finché tutti i trasporti non saranno a sicuro Che la forza sia per voi Camminatore ATST, là davanti Avanti il prossimo Colpo da maestro Ben fatto con quella TST Il trasporto sta per decollare Il trasporto sta per decollare Quello era l'ultimo Questo è fatto Io di solito mi fermavo fino a questo punto Ma, ma adesso Ma, ma adesso no Una TAT imperiale, distrusciamolo Scusa quanto tempo Usate il cavo per abbattere la TAT Quella corazza è vulnerabile in là Usate l'arpione Un altro passaggio Staccare il cavo Ecco, come dicevo Siamo diventati bravi E ora stavo a questo E ora stavo a questo Sparate l'arpione Sparate l'arpione Concentriamoci Sganciare il cavo Distruzione a TAT Confermata Il trasporto sta per iniziare l' evacuazione Perchè a questo gioco Se volete un coltivo in questa modalità Vi avviso Quando dovete abbattere una TAT Non usate mai il pilgo Perchè andate troppo veloce E riuscirete a fare tutti e quattro i giri L'ultimo camminatore è a terra L'ultimo camminatore è a terra Le ghiacchie spettini Di scatta Se si possono definire così Puttavia Qui ma Qui mi avete visto Mi ha preso in pieno Infelizie In questi giocchi posti C'erano di tutto Questa volta ci hai provato e basta Camminatore Camminatore dei miei cavi di traino Sganciare Ce l'ha infatti I sistemi sono ormai Maledizione Abbiamo perso un altro speeder Dove causare l'arpione Oh oh Ma nuova evasiva Scorre Colpitelo con l'arpione Ancora un po' Spaccare Un altro speeder abbattuto Eh... In fondo In fondo In fondo In fondo Anche io l'ho letto su internet Vedo che era battaglia di 8 sono stati pezzi praticamente tutti gli scritti ok signor gioco capisco però anche noi abbiamo dei minuti e poi non siamo attivati di sicuro non lo colpia come detto già distruzione atti confermata bene non ce ne sono altri e abbiamo come è fatto? squadrone blu ci vediamo al luogo stativo ok ragazzi sappiate che se vi è piaciuto che con questo video finiamo le modalità addestramento e se vi è piaciuto lasciate un mi piace e anche un commento condividete e condividetelo noi intanto ci vediamo la prossima settimana la prossima domenica con un video nuovo di playstation ciao ciao